buonasera milano allora lazio milan 22 un veloce commento non ve lo faccio mancare non sto qui a prendere in giro il milan perché ancora una volta non ha vinto i punti di svantaggio facciamo un discorso serio per una volta il milan ha un problema si aggredisce alto viene infilato e si aspetta è troppo passivo quindi non c'è soluzione poi la squadra non dura 90 minuti può durare un tempo poi poi basta e poi un'altra cosa il milan prende i gol tutti uguali tutti dalla fascia sinistra che dovrebbe essere la fascia forte con teo hernandez leao tutti mamma santissima del milan è invece è proprio lì che becca i gol chiedetevi come mai chiedetevi come mai non so mica due fenomeni e forse forse no forse qualcosa non funziona comunque due gol col parma due gol con la lazio pareva di vedere delle fotocopie o no voi cosa ne dite un saluto a tutti